Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Sette ore di consiglio, di interventi accesi e discussioni, ma sono serviti i tempi supplementari per l'approvazione del piano sociosanitario 2023-2025. Mercoledì mattina, infatti, la SIS si è riunita nuovamente per concludere la discussione e approvare definitivamente quello che sarà il documento su cui dovrà muoversi almeno per i prossimi tre anni la sanità regionale. Né il PD, né i 5 Stelle hanno proposto emendamenti perché hanno giudicato il piano, inemendabile e totalmente da riscrivere. Il presidente Francesco Acquaroli, invece, lo ha descritto come il piano della verità. L'assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, riassume così le oltre 500 pagine di documento. Il piano parte da un elemento imprescindibile di una regione al plurale come le Marche. Innanzitutto fa una fotografia della domanda di servizi sanitari. Noi sappiamo esattamente quali sono i servizi domandati ad Ascoli Piceno, a Fermo, a Macerata, ad Ancona e a Pesaro che non trovano risposta. Quindi, sulla base della domanda, le aziende dovranno riorganizzare le loro attività. Sappiamo, per esempio, che da dieci anni le Marche hanno la più alta mobilità passiva, una delle più alte mobilità passive verso l'Emilia-Romagna, a 150 milioni l'anno. Sappiamo che i marchigiani andavano in Emilia-Romagna a curarsi soprattutto sulle patologie ortopediche e oggi sappiamo quindi che dobbiamo riorganizzare le specialistiche di ortopedia e di traumatologia in tutte le AST, in particolare a Pesaro. Poi la vecchia amministrazione aveva creato una identità sui servizi sanitari creando un'apposita azienda che era Marche Nord, che era in conflitto con l'area vasta 1 di Pesaro. Noi abbiamo riunificato le due aziende e l'unica azienda adesso di Pesaro dovrà fare il percorso inverso, cioè garantire ai pesaresi i servizi che i pesaresi domandavano e andavano a richiedere in Emilia-Romagna. Intanto è bagare in aula dove i gruppi di opposizione del PD e del Movimento 5 Stelle sono usciti dall'aula per protestare contro un piano che dicono essere farlocco, che non dà risposta ai cittadini marchigiani. Tutta l'opposizione è uscita, anche il Movimento 5 Stelle. Il piano è assolutamente un contenitore troppo pieno e non sceglie nulla. Noi rimarremo con l'illusione che si possano risolvere i problemi delle liste d'attesa, dei pronto soccorso, dei medici che mancano. Invece purtroppo non accadrà nulla.